ciao ragazze sono tornata con un altro video e in questo video voglio parlarvi di un negozio che realizza felpe personalizzate t shirt personalizzati tutto quello che desiderare insomma potete vedere i loro prodotti sul sito www.eacorporation.it o sul loro negozio ebay ceramica butterfly cosenza o ancora inviare un'email a ea corporation in chioccio la virgilio.it comunque lascerò tutte le informazioni sotto dettagliatamente nell'info box le felpe vi arrivano in una bustina di plastica con i semplici trasparenti e con questo foglio all'interno come specifica la felpa la taglia e il colore ecco dove sotto vi dice come vanno lavate quindi sono lavabili a mano a 30 gradi e è meglio non stirare direttamente sopra alla stampa ma stirarla al rovescio o con una protezione per dargli brillantezza e colore ok questo qui le felpe in questione sono due una da uomo e una da donna ma non cambia niente perché il modello è lo stesso poi nel sito trovate anche le misure la lunghezza la larghezza insomma tutte le misure che potete prendere su di voi per vedere qual è la taglia adatta io ho preso due tagli xl per stare comodi comunque una felpa mi piace mi piace che sta comoda allora sono tutte e due grigie questo colore così vedete grigio chiaro hanno il cappuccio come vedete con i laccetti che potete stringerlo all'interno è felpata quindi una bella felpa calda 80 per cento cotone 20 per cento poliestere poi io ho fatto fare questa stampa da uomo con la scritta mister e le orecchiette di topolino devo dire che è molto carina perché ho fornito a loro un'immagine che ho trovato su internet e loro me l'hanno realizzata identica proprio uguale tale quale anzi anche più bella perché la stampa come vedete è realizzata benissimo cioè nel senso non è che il rilievo di quelle che si vede che sono fatte con il ferro d'assirio che praticamente vi si spellano no questa è proprio fatta pari al tessuto praticamente la felpa che ho scelto io questo modello ha anche la tasca sotto vedete la tasca una grande che con lei che è collegata una unica poi il bordino sotto e al bordino sulle maniche come tutte le classiche ferpe questa qui dietro è semplice ovviamente tutta che già questa è quella da uomo mentre quella da donna è sempre uno spettacolo sempre più bello e questa qui in coordinato con la scritta missis e le orecchiette però da mini vedete hanno il fiocchetto rosso con i qua la scritta uguale all'altra ovviamente credo che il font sia quello della waldisney anche questa al cappuccio e il tascone grande in basso vedete devo dire che sono rimasta molto molto soddisfatta lavorano con qualità con professionalità ho richiesto queste felpe giovedì e il venerdì sono state inviate quindi hanno esaudito subito le mie richieste sono sono molto molto soddisfatta la stampa è ottima è davvero di qualità e vale insomma vale l'acquisto potete fare dei regali unici e originali il prezzo non me lo ricordo però ve lo lascerò sotto nell'info box e ringrazio ancora ceramica butterfly per questo e a corporation per questi bellissimi regali un bacio ciao